50 anni è un bel compleanno, io non lo posso ricordare perché sono del 1972, però ricordo quello che ho letto sostanzialmente che si arrivava dagli anni molto difficili, gli anni 70 erano anni difficili, ci arrivava da un periodo particolare, oggi anche, arriviamo da un periodo, una primavera molto triste per la nostra regione, l'auspicio è quello di arrivare nei prossimi anni, nei prossimi mesi, avere il trionfo che abbiamo vissuto negli anni a seguire degli anni 70, quindi un buon compleanno alla nostra regione con un futuro prospero. e sorridente.